Noi siamo tutti qua perché riteniamo che Bologna debba fare un salto di qualità. Gli suoi aspetti comunitari, più o meno trasversali, vanno molto bene naturalmente. Questa è una città dove si vive bene e che, grazie all'attrattività, ha fatto venire gente da fuori, offrendogli servizi e tutte le piacevolezze che tutti più o meno conosciamo. Ma questa macchina si sta inceppando. Non si tratta semplicemente di fare tutto un pochino meglio, ma di fare dei salti di qualità e quindi di inventarsi un nuovo motore per la macchina, non soltanto rivedere la carrozzeria, far andare un po' meglio i terzi di cristallo e cose di questo tipo. Le forme di creatività vanno bene tutte, ma naturalmente è molto importante la manifattura, che è il vero lievito delle società industriali, che magari rispettino anche l'ambiente. e per il discorso dell'attrattività è fondamentale che ai giovani cervelli vengano offerte delle condizioni di vita che gli consentono di rimanere in città.